Sono stati consegnati i lavori per la messa in sicurezza della discarica di contrada Pozzo Bollente a Vittoria. Gli interventi che sono stati progettati dai tecnici del lato ambiente Ragusa e che prevedono la copertura provvisore dell'aria con un telo in polietilene, la creazione di 34 pozzi di captazione e lo smaltimento del biogas e la realizzazione di canalette perimetrali per evitare infiltrazioni piovane, saranno eseguiti entro ottobre dalla ditta 2G Costruzioni di Agrigento e prevedono un costo complessivo di 1.184.000 euro. Pur consapevoli che si tratta di un intervento provvisorio dichiarato al sindaco Giuseppe Nicosia, bisogna comunque sottolineare che i lavori fermeranno il danno ambientale che si è creato negli anni della discarica. Spero che le opere vengano realizzate nei tempi previsti e invito l'atambiente a individuare una soluzione che consenta di procedere con il risanamento e la bonifica. La stazione comunale non ha alcun merito in tutto ciò. Se oggi a distanza di 5 anni dalla chiusura della discarica, ancora oggi questa discarica non è bonificata, ma si tratta soltanto di una copertura provvisoria, anche questo bisogna essere molto chiari, è proprio perché il comune di Vittoria non ha mai versato a lato le somme ingassate dallo stesso comune per la gestione post-mortem. E sulla vicenda va all'attacco invece il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giovanni Moscato che sottolinea che i meriti sono dell'atambiente ragusa e non del comune. In conferenza stampa il sindaco Nicosia ha replicato proprio a Moscato dichiarando. Moscato scopre l'acqua calda e noto che l'opera è stata progettata e finanziata dall'atambiente e che anche in questo caso dunque si tratta di una polemica priva di alcun fondamento che poteva essere evitata. Non c'è nessuna polemica perché Moscato scopre l'acqua calda, la discarica è dell'ato, l'ato ha cominciato lì per la bonifica, questo è un primo intervento, si sarà messa in sicurezza la discarica per un importo di circa un milione di euro di lavori.